The Cursed Forest Tutto ciò che vi siete persi Negli episodi precedenti Il Gunner Games PURICATROIA La 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 Ah 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 Cotroia Minchia dai dai Corre veloce come come gli epe Sporca puttana Get up little Arrivederci Arrivederci No no è chiuso il gas È chiuso il gas Ce l'ho sicuro Terzo ed ultimo episodio di The Cursed Forest Il Gunner Games Cosa 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 Torniamo indietro? Dai. Vabbè, io comunque l'ho chiuso in casa. Quindi non sarebbe più rompermi i coglioni. Sto cazzo. Quindi, torniamo da dove siamo venuti. Quindi... Torniamo indietro! Torniamo da dove siamo venuti. Quindi la strada... Torniamo da dove eravamo prima, dove non potevamo andare l'altra volta. Però io, porca troia, ti avevo chiuso da dentro, eh. Il passaggio è stato aperto. Yeah! Bene. Andiamo di qua. Finalmente possiamo... Proseguire nella nostra avventura. È incredibile. Che cazzo era? La testa! Una testa! Una testa! Una testa! Una testa! Sì No 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 E dopo questa ventata di aria fresca possiamo magari andarcene Tornare indietro andare a casa magari andare dalla mamma Penso Tornare Che che Non ci fa vado lì neanche a morire neanche a morire guarda no che devo andare qua ah ok 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 hai trovata yeah col cazzo che ci vado là salve arrivederci e grazie è stato un piacere arrivederci ok proviamo a tornare indietro perchè qua tutte le strade le ho già fatte quindi non penso un ponte c'è un ponte io non mi ricordo il ponte però ragazzi io non mi ricordo un fottutissimo ponte a meno che c'era stato un punto in cui c'era un bivio però sinceramente non ricordo ci sono stati tanti di quei bivio che non mi ricordo neanche che fosse di qua la strada è probabile perchè ci ha dato il checkpoint oh una costruzione ecco il ponte il ponte che ci porterà alla libertà forse deve succedere niente ti prego non deve succedere niente non deve succedere niente bella si molto bene se è sputtanato il ponte non possiamo più tornare indietro no non c'è non andare non andare non andare da te anzi no vado io a vedere dicevo ah si è pure messo a piovere proprio una sfiga allora siamo da soli è notte c'è a presenza si mette a piovere pure il temporale sfiga una dietro l'altra cosa può capitare di peggio ah beh dai sento una canzoncina rilassante dai allora siamo vicini alla fine no 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 un'altra casa no perchè andiamo a vedere la casa se riesco a non urlare meglio perchè dai di la non si vede una sega però c'è una luce rossa che cos'è pick up mainstone pick up pick up andiamocene via però eccola lo sapevo lo sapevo lo sapevo un rituale un rituale c'è stato un rituale a presenza è stato un piacere arrivederci 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 c'è luce qua però ah insert bone devo inserire le ossa ragazzi adesso ho capito inseriamo lo scheletro infernale oh inserisci pietra si e dovrò inserire anche tutte le altre allora si eh si 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 insert the stone yeah perchè ogni volta che devo inserire una pietra deve partire un rumore non è obbligatorio eh non è obbligatorio eh insert the last stone non è obbligatorio che dice che oltre non è obbligatorio perchè trema tutto cosa eh c'ha eh che che è che non si muove più che Ma cos'è sto casino? Ma chi è che è il monaco che batte la porta e chi chiude urlando? Segui... No. Sì? Va in cielo. Ok, ho liberato la sua anima sicuramente, quindi non mi romperà più le palle. Questo è porno, ma sicuro. No. No, musica rilassante. Fantastico. Adesso dove cazzo devo... Perché? Perché non... Cioè, già era lento di suo. Già era lento. Se in più devo... No, dai. Prego. Ah, ok, ok. Sì? Devo andarmene fuori da coglioni immediatamente. Così sarà, molto volentieri. Almeno ho liberato. Quella là, quella... È presenza! Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ok, arrivederci. È stato un vero piacere, ma... Eh, ok. Però io vorrei andarmene così almeno posso... Cioè, posso evitare che mi frani il mondo addosso? Eh, ancora! Ok, però io me ne vado. Ma... Dai! Come... Perché va così piano? Perché vai così piano? Perché? Cioè, cosa sta facendo? Sta camminando... Come... Com'è che sta camminando? Che va così piano? Ma neanche mia nonna va così piano. Dai, cazzo! Dai, vai! Dai, però! Su! Oh! Che me ne devo andare fuori da... Ok, ok. Io passo sopra. Fa niente. È stato bellissimo sto gioco, ma adesso me ne vado perché... Non ne posso più. Non ne posso più. Dai, là che c'è la barca! The Love Boat! Dai che ci siamo! Dai che ci siamo un ultimo sforzo! Sento rumori, ma non me ne frega niente! La barca è lì! La mia salvezza è lì! Dai, 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 dai! Schermo bianco. Panico! Panico, 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 panico. Schermo nero, deve succedere qualcosa? Bella, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo liberato l'anima di quella povera ragazza! Bel gioco, veramente bel gioco! Mi ha fatto prendere già qualche colpo, come avete notato! Ragazzi, questo video finisce qui, intanto un applauso a questo gioco che veramente spacca di brutto! Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, condivideteci, vediamo presto al prossimo video! Ciao belli! Ciao belli!